Io sono fatta così e ve lo mostro pure, sono anche sincera, non c'ho il ramore di nessun tipo e a chi piaccia piaccia, a chi non piaccia non piaccia Il fantastico mondo di Drusilla! Ma tu hai avvistato gli UFO anche sull'isola? No, purtroppo no, però ci credo ovviamente Sarei tutti intorno ai marziani, te lo voglio dire Probabilmente lo sono io stessa, forse è quello il problema Ah sei tu? Hai capito? È come San Tommaso Che se non vede, non crede Mamma mia Drusilla hai pensato? Io sarai così ora Posso dirti, l'atmosfera che si crea quando Drusilla è nella postazione Nomination è una cosa che non ho mai visto da nessun'altra faccia È un clima... Freeze! È un freeze del genere È un clima proprio... Guarda che è una dote eh Però... Dici? Ma certo È soporifera, è soporifera ragazzi No, no la trovo più intrigante Perché la osservi, la osservi È come un safari, quando ti fermi e guardi l'animale e dici che cacchio è? Sei così? Ma è bello eh? Grazie 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 Grazie